Buongiorno ragazzi e benvenuti qua con un nuovissimo video, oggi siamo tornati su Brawl Stars e oggi, da come avete detto dal titolo, siamo qua per aprire i premi Star Drop leggendari gratuiti Ma nonostante i premi Star Drop leggendari nello shop, ci siamo tenuti da parte un po' di star così da creare un mega chest opening, chiamiamolo così Quindi vediamo oggi ragazzi cosa andremo a trovare, vediamo se la fortuna ci bacerà, come sempre un bel pollice in su mi raccomando sostenete la serie e iniziamo subito con questi premi Star Drop Boom! No di più ragazzi! Dai! Tutto raro, tutto raro Abbiamo il leggendario 3, 2, 1 Vai TheBatsCaming! È questo l'account che c'è Gaza! È questo! E ora switch a mitico! Switch a mitico, fai vedere che siamo matti! Ah! No! 3, 2, 1 No questo è raro Raro? 3, 2, 1 1 2 3 3 1 2 3 Super rare Andiamo! Sì! Così! 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 Andiamo! Ma non fermarti qua! Switch ancora un po'! No! Così no! Così no! Calma! Sì! Vai! Ultimo tap! 3 3, 2, 1 3, 2, 1 Perché? Va bene! Bellissimi! Bellissimi! Va benissimo! Easy! Se mi stai ascoltando! Adesso ti mi fai diventare un epico subito! Se non addirittura mitico perché la gasiamo! La gasiamo qui! Non demordiamo! Super rare! Ok! 3, 2, 1 Oh! Va bene! Va bene! Siamo tutti quanti pronti! 3, 2, 1 Ok! 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 Va benissimo! Quindi ragazzi! Io direi che questo pack opening, chiamiamolo così, è andato anche fin troppo bene rispetto alle ultime volte! Abbiamo trovato nuovi brawler, abbiamo trovato punti così che ci hanno fatto sì, che abbiamo sbloccato Eugenio e compagnia bella! Non ho nient'altro da aggiungere, come sempre, un bel pollice in su mi raccomando! Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, attivate la campanella, noi ci vediamo con un prossimo video! Bella sui ragazzi! Bella sui ragazzi!